Musica Musica Anche quest'anno la Sala Cutolo della Camera di Commercio di Napoli ospita il prestigioso premio Oro Italy, giunto alla quarta edizione. Il Gran Galà di Natale, organizzato dall'Associazione Imprese Orafe, presieduta da Salvio Pace e coordinata da Gianni Lepre, ha visto sfilare sul palcoscenico tanti esponenti della cultura, del giornalismo e dell'impresa campana, i quali si sono particolarmente distinti durante l'anno che sta per concludersi per la loro serietà e professionalità e per aver contribuito alla crescita economica della nostra regione. Devo dire che per noi è un grande orgoglio, siamo aggiunti, come lei ha detto, alla quarta edizione, ma soprattutto l'orgoglio di premiare le eccellenze napoletane, le eccellenze campane, le persone che veicolano la Napoli bene, la Campania bene in tutto il mondo e quindi che sono l'orgoglio per tutti noi. Oro Italy è un'associazione che rappresenta comunque essa stessa l'eccellenza per quanto concerne l'artigianato, l'artigianato orafo e quindi tra le altre cose noi come associazione abbiamo lo scopo principale che è quello di interloquire con le istituzioni sulle problematiche del settore, ma non solo, sulle problematiche di tutte le piccole e medie imprese. Un segnale forte che parte dalle imprese orafe e che vuol rappresentare un tributo alla Campania che lavora e che produce, all'impegno di professionisti che con i loro investimenti hanno voluto fortemente rappresentare un tampolino di lancio per il mezzogiorno. Siamo giunti quest'anno, dopo cinque anni da quando è nata la nostra associazione, siamo giunti al quarto premio e anche quest'anno premiamo l'eccellenza della nostra città e l'eccellenza della nostra regione in modo particolare. Sia nel campo della cultura, dell'artigianato, dell'imprenditoria, nella medicina, giornalisti, abbiamo un po' di tutto e abbiamo l'eccellenza, veramente l'eccellenza campana. Siamo a fine anno, facciamo un bilancio per quello che è stato un po' l'andamento dell'impresa campana e soprattutto quella orafa che lei rappresenta. Quest'anno sicuramente è stato un anno molto duro, molto difficile, dove le difficoltà si sono ancora di più accentuate. Noi siamo fiduciosi nel Natale, dove i nostri clienti si possono riprendere un poco perché i problemi sono enormi. Il nostro settore, insieme a quello della nautica, è quello che ha sofferto di più in assoluto negli ultimi dieci anni. Infatti fra i premiati ci tengo a dire che premerò Gennaro Amato, presidente della FINA, del Polo Nautico Italiano, che ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco, cominciando a produrre gommoni di altissima gamma. Quindi un coraggio in un momento in cui hanno chiuso l'80% delle aziende che producono barche, lui ha avuto il coraggio di incominciare invece a produrre barche. E quindi ci tengo in modo particolare a lui e in modo particolare voglio dire anche agli artigiani che ci seguono molto nella nostra avventura in Oro Italy. Un premio non è mai un punto di arrivo, è proprio uno sprone a dare di più e meglio di quello che si è dato. Quindi sicuramente questo può essere una cosa preziosa, ma ci vuole come si chiama Oro Italy. E la Camera di Commercio non poteva avere migliore evento. Essere presenti, far vivere il palazzo di imprese, di professionisti, per noi è il miglior risultato che si poteva raggiungere. Tante sono le personalità che sfileranno qui per questo premio alla Camera di Commercio, persone che hanno portato lustro alla nostra regione. Segno evidente che c'è una campagna degna di lode, che forse l'economia nazionale può ripartire proprio da qui. Sì, sì, veramente è una bella iniziativa, anche perché dimostra che non è vero quello che molto spesso si legge dalla stampa. È una campagna che sta solo dedicata al crimine o che in qualche modo non riesce a sopravvivere. Penso che veramente a Napoli, in tutta la campagna e nel sud in generale, ci sono tante eccellenze che veramente dovrebbero stare più insieme, forse per dare veramente una spinta verso la crescita di questo territorio. Beh, la regione campagna è la più bella del mondo e quindi è chiaro che siamo tutti orgogliosi stasera di vedere persone e imprese che sono capaci di trasformare i prodotti e di renderli eccellenza nel mondo. Fare squadra, fare rete è quello che dietro occasioni come questa c'è, quindi bravi gli amici di Oritoli, bravi quelli che capiscono che la campagna può e deve migliorare. Che bello, finalmente si parla di eccellenze, si parla di buone notizie. Che Napoli è anche questo, Napoli non è solo la recrudescenza dei fatti di cronaca, non è solo sparatorie e immondizia. Napoli invece è tanta roba, sono aziende che fanno ottimi prodotti, ottimi servizi ed è un buon segnale per i giovani, un segnale di coraggio e di speranza. Quindi avanti tutta con i progetti e con questo premio. Ingenialità Ingenialità Grazie a tutti.